Tutto è nato dalla volontà di levarci sigle di partito che in qualche modo ci appartenevano per aprirci. Questo è un momento difficile, bisogna fare dei segni di disponibilità, dare dei segni di disponibilità. E poi in questo momento veramente quello che ci muove è la volontà di mettere al centro questa città, quello che abbiamo costruito e abbiamo dato per questa città. Il centro è anche un luogo politico, ma non solo. Non può essere inteso come una collocazione politica che nasce nei palazzi. Il centro è un luogo accogliente se si riempie di entusiasmo e di responsabilità. Noi vorremmo che questa sia la caratteristica della nostra lista.